Buonasera Allora, Bonaccini è appunto anche il rappresentante di tutte le regioni che come sapete continuano ad avere scontri durissimi con il governo Ma è anche un uomo che è appena guarito dal Covid e in queste settimane l'ha vista brutta Anche se cominceremo la puntata di 8 e mezzo di questa sera salutando quello che forse è il più grande calciatore di tutti i tempi, Maradona Che se ne è andato oggi, pubblicità Grazie Marco Travaglio, in apertura salutiamo quello che probabilmente è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, Maradona Che se ne è andato oggi Che cosa abbiamo perso e chi è stato, cosa ha rappresentato non solo per il mondo del calcio? Quando muore una divinità, qual era sicuramente Maradona per il mondo del calcio, devo dire che più parole si dicono e più aumenta il rischio di dire delle banalità o di cadere nella retorica Io l'ho visto giocare molte volte dal vivo perché lo vedevo come avversario essendo io juventino e quindi allo stadio di Torino veniva con il Napoli e ovviamente era una minaccia Poi diventava una minaccia per noi tifosi della nazionale di calcio quando ce lo ritrovavamo contro e quindi io tifavo per Gentile ovviamente nella partita Italia-Argentina Che fu poi seguita dalla vittoria italiana del 1982 al Mondiale di Spagna Quindi ero molto contento che Gentile gli abbia praticamente impedito di giocarla quella partita, marcandolo molto stretto Penso che quando un calciatore ha quel monumentale talento nei piedi e purtroppo non altrettanto nella testa Quel calciatore di quel tipo lì debba morire subito appena appese le scarpe al chiodo perché poi rischia di rovinare tutta quell'aura di magia che si è portato dietro fino a quando giocava a pallone Sicuramente Maradona ha dilapidato con le sue disavventure esistenziali la sua figura che però ogni volta che si rimostra il Maradona calciatore ritorna Per cui si vorrebbe ricordarli in campo quei talenti, quei maghi Quando poi li si vede nella vita quotidiana deludono Quindi forse il calciatore era morto da diverso tempo Quindi che cosa perdiamo? Abbiamo perso tutto quando ha lasciato il calcio Abbiamo perso tutto quando ha lasciato il calcio, Reinhold Messner Secondo lei che cosa abbiamo perso con la morte di Maradona? Ecco, io prima di tutto non sono calciatore però sono andato più volte non a Napoli ma in televisione a osservare questo giocatore Secondo me è stato un tipo, è stato un carattere anche difficile E' diventato leggenda e per me personalmente rimane leggenda oltre il suo lavoro di calciatore Che era un lavoro, che era un'espressione, era un genio, un mago Però per me è rimasto questo nonostante tutto quello che poi è successo attorno a lui E mi ricordo come era a 25-30 anni E lei Stefano Bonaccini? Io avrei voluto fare il calciatore quindi gliene parlo volettieri Come travaglio sono juventino e ricordo quanti patimenti ci ha fatto vivere in tante partite Baradona fuori dal campo ha vissuto di eccessi, di errori, ne ha pagato anche spesso tante conseguenze In campo rimane, non so se il migliore al mondo, se la giocano probabilmente lui e Pelé Rimane agli occhi di tutti noi un talento formidabile che nascono ogni decenni Perché ogni tot decenni Rimarrà negli occhi credo a tutti quelli che l'hanno potuto vedere Ad esempio uno dei gol più belli nella storia del calcio di tutti i tempi Che fu il gol, non quello con la mano, ma quell'altro all'Inghilterra Dove scartò giocatori come Birilli facendo 70 metri, palla al piede e arrivando persino a scattare il portiere Quindi un calciatore straordinario che ha dato l'espressione migliore di sé Come veniva detto certamente in campo Una persona poi che al di là di eccessi e errori aveva anche slanci ideali, generosità Però certamente credo rimanga negli occhi a tutti le gesta in pantaloncini corti Allora senta Stefano Bonaccini Chiudiamo questo ricordo di Maradona E apriamo invece quello che è praticamente grazie al cielo Un ricordo per lei ormai che è il Covid Che lei ha avuto Se l'è vista brutta Credo che lei abbia ancora una polmonite Ma è negativo Quanta paura ha avuto? E come sta adesso? Guardi intanto la ringrazio Non vorrei parlare di me ovviamente Quindi me la cavo proprio in pochi secondi Io sto bene, sto molto meglio Devo ancora per una decina di giorni, due settimane Curare la polmonite bilaterale che è ancora presente Anche se molto migliorata Come lei correttamente diceva Sono risultato negativo all'ultimo tampone pochi giorni fa Quindi sono uscito da 20 giorni di isolamento Per la verità in ospedale ho trascorso solo una giornata e una notte C'è stato un momento anche un po' di timore Però insomma le cose sono andate bene Ho fatto quello che prescrivevano i nostri straordinari professionisti della sanità E le cose sono andate bene Stanno andando bene Stanno andando bene Siamo felici Silvia Borrelli Stefano Bonaccini rappresenta anche tutti i governatori delle regioni Che continuano ad avere scontri durissimi con il governo Sulla gestione del Covid Adesso negli ultimi giorni sulla riapertura degli impianti sciistici Bonaccini oggi ha detto stop alle polemiche A chi dovrebbe dirlo? Ai suoi colleghi o al governo? A tutti Gli errori ci sono stati da una parte e dall'altra Bonaccini è una persona assennata Credo lo sappia Sicuramente non hanno aiutato i personalismi di alcuni presidenti di regione Non parlo di quello presente Le polemiche sull'istituzione delle zone rosse Sin dall'inizio della pandemia Dopodiché dal mio punto di vista In una pandemia è il governo che deve fare una sintesi L'Italia è un paese piccolo Non possiamo avere delle regole diversificate Ogni mezzo milione o milione di abitanti Siamo in un mondo globalizzato In mezzo a una pandemia partita dalla Cina Stiamo discutendo con i partner europei Sul recovery fund ci mettiamo a litigare tra Catanzaro e Roma O tra Bari e Roma o tra Napoli e Roma Non ha alcun tipo di senso Secondo me è stato sbagliato lasciare alle regioni la libertà di derogare alcune misure Penso all'apertura delle discoteche quest'estate Le matici sono stati i casi della Puglia e della Sardegna Piuttosto che le discussioni sull'obbligo di quarantena Decise in autonomia da alcune regioni Oppure la differenza sulle riaperture delle scuole Adesso il prossimo banco di prova Sarà la riapertura dei negozi e degli esercizi commerciali sotto Natale Dal mio punto di vista non si può andare in ordine sparso Incluso sulla riapertura degli impianti sciistici Quindi hanno ragione a dire basta polemiche da una parte e dall'altra Andiamo avanti per il bene dei cittadini Reinhold Messner Riapertura degli impianti sciistici Tutti gli operatori del settore lo chiedono a gran voce Lei invece pensa che il governo abbia fatto bene Faccia bene a frenare e anche a cercare un accordo Una collaborazione europea? Ecco, in questo Conte fa bene di trovare un accordo sulla base europea Almeno i paesi che hanno parte degli Alpi devono decidere insieme Non va bene se l'Austria accetta La Svizzera già, ma è fuori dall'Unione Europea Ha già deciso che il turismo internazionale può aprire Però gli altri devono avere le stesse date Significa che devono aprire o far aprire il turismo invernale nello stesso giorno Ma perché lei pensa, Messner, perché lei pensa che dovrebbero restare chiusi per il momento gli impianti sciistici? Anche lì sono scettico Secondo me a Natale e a Campio Anno Nelle montagne delle Alpi c'è meno rischio per prendere la pandemia Per prendere il virus Che nelle discoteche Le discoteche non saranno aperte Però in città si trovano poi in grandi gruppi E lì c'è il rischio che il Covid esplode ancora una volta Se siamo capaci negli Alpi Non soltanto fare sci di pista Ma offriamo lo slettino a pochi Apriamo per chi fa fondo, sci di fondo Chi fa sci alpinismo E mettiamo sulla pista soltanto metà o un terzo dei clienti di due anni fa E gli alberghi devono seguire seriamente le regole che sono già scritte Allora il rischio di portare la gente finalmente fuori Nell'inverno, nel freddo, nelle bellezze della montagna E meno che nelle città dove in ogni caso trovano E troveranno la possibilità di incontrarsi in gruppi abbastanza larghi Insomma un difficilissimo equilibrio da trovare Grazie Reinhold Messner per essere stato con noi Marco Travaglio, tu hai criticato molto i presidenti di regione Li hai chiamati sgovernatori Questo vale anche per Bonaccini E ci sono delle responsabilità del governo? No, io ho chiamato sgovernatori quelli che penso che sgovernino Gli altri li chiamo presidenti di regione perché la carica di governatore non esiste E' un'invenzione E no, credo che Bonaccini abbia avuto delle responsabilità Per alcune scelte, per esempio io non ho condiviso Che l'Emilia Romagna abbia partecipato alla riapertura delle discoteche Quest'estate insieme ad altre regioni Non ho condiviso che si sia associata alla richiesta Della conferenza delle regioni di riaprire gli stadi a metà settembre Al 25% della capienza Perché il problema non è mai durante la partita Lo sappiamo tutti che durante la partita le persone sarebbero distanziate Il problema è sempre l'afflusso e il deflusso che crea assembramento E quindi meno male che sono stati bloccati dal comitato tecnico scientifico e dal governo Io ho parlato di sgovernatori a proposito di regioni come la Lombardia Ma non solo che non sono riuscite nemmeno a acquistare i vaccini anti-influenzali Adesso vorrebbero occuparsi della gestione del vaccino anti-covid Dio ce ne scampi Mentre invece so che nella regione amministrata da Bonaccini Cioè l'Emilia Romagna La campagna vaccinale anti-influenzale è andata benino Quindi su quello non ho niente da dire Quindi io faccio sempre le distinzioni Non sono tutti uguali Poi per mia convinzione Io sono per abolire le regioni Io sono per un federalismo comunale Le regioni dopo 50 anni ce lo possiamo dire tranquillamente Hanno fallito E come diceva la collega da Londra Diciamo questa pandemia ci ha dimostrato proprio plasticamente Che non si può affidare la sanità Cioè la salute dei cittadini Alle scelte individuali di una serie di appunto sedicenti governatori Che in realtà sono presidenti di regione E che vanno in ordine sparso La sanità è pubblica ed è nazionale Quindi deve essere assolutamente tolta Secondo me quella competenza alle regioni Non perché siano tutte incapaci Perché ci sono sistemi sanitari che funzionano meglio E sistemi sanitari che fanno orrore Ma perché deve essere ricondotta la sanità al centro Cosa che purtroppo adesso non si può fare Perché abbiamo una legge che stabilisce che la sanità è regionale Certo E il peggio del peggio secondo me in questi mesi Le regioni lo hanno dato Quando nel rivendicare i meriti Facevano tutti gli autonomisti Anzi volevano addirittura più autonomia Con l'autonomia differenziata E poi quando venivano messi nelle condizioni Di prendere delle decisioni Dicevano al governo per carità Non chiedete a noi Fate voi Questo è troppo comodo Non si può fare i federalisti a giorni alterni A seconda di quando conviene Di quando non conviene Quindi io penso che Questo giochino non può più continuare Chi vuole autonomia la deve prendere Anche per quanto riguarda le responsabilità E in ea culpa Altrimenti tanto vale centralizzare tutto E rinunciare all'autonomia Bonaccini Parole forti e chiare Che immagino lei non possa condividere Il fatto che le regioni hanno fallito E il fatto che bisognerebbe forse abolirle Però mi scusi Ricordo solo Quando Marco Travaglio dice La sanità è un buco nero In tantissime regioni Ricordiamo che l'85% Oltre l'80% Delle spese regionali Dal budget E rappresentato Dalla sanità Allora Mettiamole in fila Io faccio il presidente Della conferenza di regioni Da cinque anni Le opinioni Mi interessano relativamente Mi interessano i fatti Nella carica che ho E nel 95% Dei casi La conferenza delle regioni Cioè quasi sempre Praticamente sempre Ha votato all'unanimità Condividendo le decisioni Dei vari governi Che si sono succeduti Compreso l'ultimo Il 97% Delle centinaia Di ordinanze Delle regioni Per bocca del governo Sono state giudicate Conformi ai vari DPCM del governo Poi Come dire Ognuno si prende la responsabilità Di quello che dice E delle cose che fa E lì Io non posso Prendermi la responsabilità Di quello che dicono E fammi I miei colleghi Presidenti di regione Noi abbiamo nei fatti Dato il via libera Praticamente A tutti i DPCM Che sono stati realizzati Voi non ricorderete Bonaccini No scusi La interrompo un secondo Perché vorrei ricordare Che voi Presidenti di regione Avete contestato Le zone rosse L'apertura E poi la chiusura Delle scuole Il coprifuoco I dati I ristori Avete chiesto Le dimissioni Di vari ministri Lei ricorda Una mia Parola di protesta Ma Gli altri Suoi colleghi Che lei rappresenta Sì Va bene Ripeto La conferenza Fa degli atti E quegli atti Gli ho descritti Poi ognuno È libero In democrazia Di esprimere un'opinione Contestare Contrastare Guardi Le faccio Un esempio Quando io ho firmato Col ministro Speranza L'ordinanza Su suggerimento E invito Del comitato Tecnico scientifico E poi del governo Di prendere restrizioni In quel caso Insieme a Veneto E Friuli Di Venezia Giulia Che seppur Zona gialla Ci invitavano A restringere L'abbiamo fatto La sera Di 15 giorni fa Circa Abbiamo firmato Un'ordinanza Col ministro La mattina dopo Ci siamo ritrovati In zona arancione Forse avrei avuto Motivo Di dire qualcosa Lei mi ha sentito Protestare Anche se non ero Così convinto Che fosse andato In maniera lineare Ho pensato Come sempre Che noi abbiamo Il dovere Di lavorare insieme Al governo E di dare risposte Ai cittadini Dico una cosa Travaglio che è questa Al di là del giudizio Sulle regioni Sulle singole regioni Ieri l'altro È uscita La fondazione Gimbe Come altri istituti Di ricerca autonomi E l'Emilia Romagna È risultata La regione in Italia Negli ultimi dieci anni Che garantisce I migliori livelli Essenziali di assistenza Fossimo secondi o terzi Non cambia nulla Non mi interessa questo Così come Ci viene riconosciuto Mediamente Un sistema sanitario pubblico Lei ricorderà La battaglia che ho fatto In campagna elettorale Dove so che anche voi Condividevate dal vostro giornale Il fatto di difendere Un sistema sanitario A centralità pubblica Perché vuol dire Trattare un povero Come un ricco Ecco io voglio dire questo A scuola Se uno viene bocciato Non è che la scuola Boccia o ferma Per un anno Anche quelli che vanno bene O i migliori Io non vorrei Che l'idea di centralizzare Tutto da Roma Che mi convince Dal punto di vista Delle linee guide Degli indirizzi Del finanziamento E anche di rigore Nel come dire Andare a Contrastare chi sbaglia Non vorrei però Si dovesse retrocedere E non vedere anche Che ci sono diverse realtà In questo paese In cui la sanità pubblica Anche noi abbiamo difetti Funziona E quindi come dire Io credo che sarebbero Gli emiliano e romagnoli Non d'accordo Una centralizzazione In cui si tratta Come dire Tutti come fossero incapaci Dopodiché Che ci siano riforme da fare Io sono d'accordo E penso che ognuno Poi risponde appunto Di quello che fa Di quello che fa Anche dei messaggi Che dà in tempi di pandemia Marco Travaglio Rapida replica E poi Silvia Borrelli No no ma io Non ho nulla da replicare Nel senso che Io ho riconosciuto Che per esempio Nella campagna vaccinale Ma voglio dire Sul fatto della sanità territoriale Dei medici di famiglia Ci sono regioni Al disastro totale Come la Lombardia E ce ne sono altre Che hanno reagito meglio Ne cito una di centro-sinistra Che è quella di Bonacini E cito anche il Veneto Per altre cose Quindi Mentre invece Nel Lazio Il problema dei vaccini Del deficit di vaccini Non è scandaloso Come quello della Lombardia Ma anche nel Lazio C'è penuria E vuol dire Che non è stata fatta Una programmazione Perché quelli sono Acquisti ordinari Non c'entrano niente Col Covid I vaccini antinfluenzali Si comprano Tutti gli anni Regolarmente Quest'anno Ce n'era più bisogno Perché bisognava Distinguere Chi presenta Sintomatologie Influenzali Da chi presenta Sintomatologie analoghe Ma invece Ha il Covid Quindi Bisognava pensarci Prima E non ci si è pensato Ma non In tutta Italia Allo stesso modo Io però Contesto proprio Il modello Di autonomia regionale Io penso Che le regioni Siano delle entità Troppo vaste E troppo lontane Dai cittadini Per poter essere Controllate da vicino Io preferisco Un federalismo comunale Dove il sindaco È la carica Che è più facile Da controllare Perché è la più vicina Allora Posso dire una cosa Gru No un'ultima cosa Solo La mia regione Travaglio È una regione Che l'ha interpretato Così il federalismo Comunale Noi non gestiamo Noi programmiamo La gestione In Emilia Romagna È lasciata ai comuni E alle province Per le poche funzioni Che hanno Io penso che quella Dovrebbe essere Una soluzione Come dire Intermedia Forse che potrebbe Far funzionare meglio Le cose Ma questo è il mio punto Silvia Borrelli Cosa potrebbe far funzionare Meglio le cose Perché abbiamo parlato Della sanità E forse quella Andrebbe centralizzata Tanto per cominciare Ma questo sicuramente È un discorso Che andrà affrontato A bocce ferme Dopo la pandemia Dopodiché però C'è anche Una dimensione nazionale Del problema Che riguarda I tagli Che ammontano 37 miliardi In dieci anni Che si sono Susseguiti Insomma Se vogliamo parlare Di assistenza ai cittadini Stare più vicini Ai cittadini Noi abbiamo Una spesa sanitaria Pro capite In Italia Che è del 15% Inferiore alla media europea Se ci andiamo a confrontare Con la Germania Dove la spesa È 4.300 euro All'anno Per ciascun cittadino Siamo quasi Il 50% sotto Quindi mi chiedo Se anche La legislazione nazionale Penso la legge Lorenzin Del 2013 Che ha previsto La chiusura Degli ospedali Con meno di 120 posti letto Sia andata Nella giusta direzione Perché adesso Ci scandalizziamo Quando vediamo In televisione Le persone Che si riversano Nei grandi ospedali Di città Però sappiamo Che già prima Della pandemia C'erano interi territori In Italia Penso alla Valzeriana Penso ad alcune parti Della Sardegna Dell'Abruzzo Delle Marche Che erano completamente Sprovviste di ospedali Quindi è giusto Il taglio Agli sprechi È giusto Rientrare Del debito pubblico In un paese Indebitato Come l'Italia Però mi chiedo Se i tagli netti Basati soltanto Su un criterio Di costi Che non presta Nessun tipo di attenzione Alla funzionalità Di queste decisioni E anche al benessere Dei cittadini Sia giusto E secondo me Questa pandemia Ha dimostrato Che questo sistema È completamente sbagliato Al di là poi Della divisione Tra lo Stato E le regioni Sì ci sarà sicuramente Una grande riflessione Da fare Io adesso Voglio farvi riflettere Invece Su un altro tema Ancora Importante Perché sapete Che oggi È la giornata mondiale Contro la violenza Sulle donne E vi vogliamo Mostrare Quello che ha mandato In onda Rai 2 Ieri Alle 3 Del pomeriggio E che sicuramente Sconcerterà anche voi Guardate Portiamo il sedere in alto Quindi inarchiamo Un pochino la schiena Giù le spalle Rilasso le braccia Questa volta Le posiziono sul carrello E con l'aiuto del carrello Provo a camminare Come abbiamo fatto prima Ginocchio teso E vado in giro Per le mie corsie Che diventano Che diventano Il mio palcoscenico Poi Ad esempio Potrei ritrovarmi In una situazione normale Al supermercato Che è quella Di dover prendere Un prodotto Ad esempio In alto In uno scaffale Cosa faccio? Ma sicuramente Non vado ad arrampicarmi O a sbilanciarmi In maniera goffa Lateralmente Mi posiziono Davanti al prodotto Porto il peso Sull'avampiede Inarcando la schiena Allungo il braccio E prendo il prodotto Poi Se voglio dare Un tocco Un pochino più intrigante Alla situazione Quando prendo il prodotto Eccolo E se per esempio Accidentalmente Dovesse cadere Un pacco a terra E io lo farei così Mi accovaccio Con un ginocchio Un pochino più piegato Dell'altro Mantenendo Le gambe chiuse Quindi non vado A divaricare le gambe A rendere La situazione più volgare Porto la spalla Leggermente in diagonale Allungando la linea Del braccio Fino alle unghie Prendo il prodotto E alzando Un pochino il sedere Eeeh Ma li fai svenire tutti Così al supermercato Allora Silvia Borrelli Sembra di essere tornati Al medioevo E comunque Ancora più grave Secondo me Che il servizio pubblico Difonda nel 2020 Questo tipo Di messaggi Cioè Faccio anche difficoltà A commentare Ho trovato Questo stacchetto Vomitevole Credo sarebbe giusto Se dimettessero Tutti in blocco Dal direttore Di Rai 2 Alle conduttrici Poi quando sono le donne A secondare Questo tipo Di divisione E a dare Questo tipo Di messaggio Credo sia ancora Peggio Se continuiamo Noi stesse A presentarci Come meri oggetti Del desiderio Tra l'altro In un modo Completamente privo Di senso Credo che Un cambio A livello Proprio strutturale Culturale In Italia Non ci sarà mai E non credo Ci sia Molto altro Da dire Sì speriamo Speriamo Noi comunque Continueremo a combattere Marco Travaglio Solo l'altro ieri Qui da noi Il premier Conte Ha difeso L'amministratore delegato Della Rai Salini Cosa dovrebbe fare In questo caso? Intanto io vorrei Difendere il Medioevo Scusa se ti correggo Ma il Medioevo E Dante Boccaccio Petrarca Giotto Cima2 C'è questa roba qua No Per le donne Non andava tanto bene È imbarazzante È imbarazzante Se servissero Le dimissioni Del direttore generale Del direttore di Rai2 Per carità Il problema È che io temo Che ci sia Quest'idea Che uno al pomeriggio Deve Per fare Intrattenimento Deve Piegarsi A queste A queste Bagianate È appunto Come diceva La collega Che poi A piegarci Si siano Proprio Delle donne È ancora più Imbarazzante Perché lì Non c'era nemmeno Il maschio Lubrico Con lo sguardo Da pervertito Lì erano Due donne Che non si rendevano Conto Di svilire La figura Della donna Pensando di fare Una cosa simpatica Come se le cose Simpatiche Fossero quelle Siamo sulla stessa Lunghezza d'onda Assolutamente Io penso Che Non ci Non riesci A cambiare Non riesci A cambiare Una certa Incultura Cambiando Semplicemente I direttori È evidente Che proprio Bisognerebbe Cominciare A A spiegare L'intrattenimento Sai Non si tratta Nemmeno Di essere Bacchettoni Gianni Buoncompagni Era tutto Forché Un bacchettone Anzi Però Cose del genere Nei programmi Di Buoncompagni Non li avremmo Mai viste Cioè Bisognerebbe Anche ritornare Alla RAI Ad avere Degli uomini Di prodotto Che spiegano Magari più donne Di prodotto Marco Forse qualcosa Potrebbe cambiare Uomini di prodotto Nel senso generale Del genere umano Uomini Donne Eccetera Perché Voglio dire L'eleganza Non significa Bacchettoneria Non significa Eliminare Gli ombelichi Come si faceva Una volta O mettere Le mutande Alle ballerine Significa Semplicemente Spiegare Che cos'è L'eleganza Che cosa vuol dire Essere spiritosi Che cosa vuol dire Essere centrici Che cosa vuol dire Essere Trasgressivi Perché in quella roba lì Non c'era Nulla di tutto questo Né trasgressività Né spiritosaggine Né senso of humor Né anticonformismo C'era semplicemente Volgarità Spacciata Per anticonformismo Che è la cosa peggiore Sì Bonaccini Ed è anche Stata la dimostrazione Plastica Di quanto Esiste ancora Una cultura Maschilista Che è francamente Intollerabile Guardi Obiettivamente È abbastanza Avvilente Si può dire Disgustoso Ma uso la parola Avvilente Soprattutto In un momento Tra l'altro Come quello che stiamo Celebrando Tra virgolette Oggi Io ancora negli occhi La mattina all'alba In cui pochi anni fa Ero già presidente Mi arreccai All'ospedale Bufalini di Cesena A trovare Jessica Notaro Lei ricorderà Cosa accade A quella ragazza È stata streggiata Dall'ex fidanzato Con l'acido In volto Ricordo Io Sono poco incline A commuovermi A piangere Ma quella mattina Veramente Ho passato ore Che non Non dimenticherò mai Oggi Jessica Tra l'altro Ha fatto un video Secondo me Molto coraggioso Molto bello Toccante Jessica Come tanti altri Peraltro Stiamo lavorando Molto Sui centri Antiviolenza Le case Rifugio Noi abbiamo Tra l'altro Una fondazione Presieduta Gratuitamente Da Carlo Lucarelli Che è la fondazione Per le vittime Di violenza In cui assistiamo Tutti coloro Che vengono Colpiti nel suolo Dell'Emilia Romagna Quindi anche Non Emiliano Romagnoli Per assisterli Anche nel pre Nel post Meno male Ma davvero Davvero bisogna Fare un salto Di qualità E proprio Culturale Che la TV di Stato Faccia questo Mi permetta Abbastanza Ripeto Avilente E certo Intanto E adesso vi faccio vedere Il punto di Paolo Pagliaro Questa sera Abbiamo tanti temi Tanta carne al fuoco E Covid Covid E l'arrivo Di un sacco Di soldi E la necessità Di Fare Un monitoraggio Molto scrupoloso Guardate 14 miliardi A tanto Ammonta la cifra Messa a bando Finora dallo Stato Attraverso un migliaio Di diverse stazioni appaltanti Per l'acquisto di tamponi Test e servizi di analisi Arredi scolastici Servizi di trasporto E sanificazione Mascherine Attrezzature sanitarie Insomma di tutto ciò Che occorre Per far fronte All'emergenza coronavirus Il principale acquirente È la struttura Del commissario All'emergenza Domenico Arcuri Sulle procedure Vigila un osservatorio Allestito da Open Police Che lamenta Un'ancora Insufficiente Trasparenza La pulizia degli appalti Diventa cruciale Ora che stanno Per arrivare I 209 miliardi Del recovery fund In un libro Intitolato L'Italia immobile Che esce domani Per chiare lettere Il giurista Michele Corradino Presidente di sezione Del consiglio di stato Spiega come ci si deve Attrezzare Perché quel denaro Possa davvero Rimettere in moto L'economia Il libro accende Un riflettore Sul mondo degli appalti Chiarisce quanto valgono Come si svolgono Perché spesso Si bloccano Raccontando Quanto la politica Ha realizzato E quanto Ha solo promesso Cercando di appurare Quanto di vero E quanto di inverosimile C'è in tutto quello Che ci viene raccontato Sull'argomento Corradino Svela i meccanismi Del malaffare Il boicottaggio Delle gare Le offerte di comodo I cartelli Tra imprese Spiega Perché lo stesso Dispositivo Per la terapia Del diabete Costa 51 euro A Bologna E 317 a Bolzano E racconta Che il modo Più semplice Per determinare Il nome del vincitore Della prossima gara D'appalto E fargli vincere La precedente E fare in modo Che nel tempo Esso diventi Insostituibile Per poi poterlo Ingaggiare Senza bando Il libro di Corradino È importante Perché anche Il malaffare Se lo conosci Lo puoi evitare E siamo in chiusura Grazie Stefano Bonaccini E ancora auguri Di pronta totale Guarigione Grazie Silvia Borrelli Grazie Marco Travaglio Grazie Grazie spettatrici Spettatori Vi lascio Andrea Purgatore Al suo Atlantide E noi come sempre Ci vediamo domani 8 e mezzo Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti